il re degli animali un uomo restò vedovo con una figlia la più bella ragazza che si fosse mai vista dopo un po di tempo trovandosi così solo senza nessuno che vadasse alla figlia pensò di riprendere ma gliene capitò una così grama che alla povera stellina le faceva passare di tutti i colori sentite papà gli disse un giorno stellina piuttosto che star qua a mangiarmi l'anima tutto il dì vado a farla contadina abbi pazienza le rispose suo padre ma un giorno la matrigna le diede uno schiaffo perché aveva rotto una scodella e stellina non ne pote più e se ne andò andò da una zia che stava in montagna questa zia era un po una fata ma era molto povera e le disse cara stellina io ti devo mandare a guardare le pecore ma ti do tutto quel che possiedo di prezioso e le diede un anello se ti troverai in necessità prendi in mano quest'anello e ti aiuterà una mattina che stellina era in un prato con le sue pecore vide venir su un bel giovane com'è che state a far questo mestiere le disse bella come siete venite con me che vi sposerò e farete la vita della gran signora stellina diventò rossa come un mascherone e non sapeva più cosa rispondere ma il giovane tanto disse che la ragazza si lasciò per su adere e andò via con lui c'era una carrozza ferma sulla strada montarono e la carrozza partì come il vento corsero per quasi tutto il giorno finché arrivarono davanti a un bel palazzo ecco stellina disse il giovane facendola entrare questo palazzo è a vostra disposizione comandate e avrete tutto quello che volete io vi lascio perché devo occuparmi dei miei affari ci vedremo domattina e così se ne andò stellina era rimasta a bocca aperta senza poter dire una parola si sentì prendere per mano ma non vedeva nessuno e si lasciò condurre in una magnifica stanza dove erano preparati abiti e gioie venne spogliata e poi rivestita da gran signora sempre sentendo davvero intorno della gente che la serviva ma senza vedere nessuno dopo che l'ebbero vestita la condussero in un'altra stanza dove era preparata una tavola con un pranzo fumante si sedette e si inizia a mangiare ed ecco che le cambiavano i piatti e le servivano le pietanze e non vedeva mai nessuno dopo pranzo girò un poco per il palazzo c'erano stanze adobbate di giallo stanze adobbate di rosso con sofà e poltrone e le più belle cose che si potessero vedere dietro il palazzo c'era un bel giardino e questo giardino era pieno d'animali c'erano cani c'erano gatti c'erano asini galline e perfino rospi di una grossezza mai vista e tutti questi animali stavano insieme e facevano un rumore che pareva di scorressero stellina si incantò un po' a guardarli e intanto venne sera e pensò ad andare a letto entrò in una stanza dove era un letto principesco ed ecco che sentì che l'aiutavano a spogliarsi e le fu portato un lume una camicia da notte e le pantofole andò a letto tutto era silenzio si addormentò e non si svegliò che a giorno grande voglio suonare il campanello disse e vedere se mi vengono a servire ma aveva appena toccato il campanello e si vide comparire davanti un vassoio d'argento col caffè e i dolci beve il caffè e s'alzò fu vestita pettinata insomma servita come una principessa più tardi ritornò quel giovane avete dormito bene siete contenta stellina rispose di sì lui le strinse la mano e dopo poco le disse addio e andò via questa era la visita che lui le faceva tutti i giorni altrimenti non lo vedeva mai erano passati già due mesi di questa vita e stellina cominciava ad essere proprio stufa una mattina dopo che giovane se n'era partito disse me ne vorrei andare un po' a spasso per queste belle campagne intorno tanto per prendere un po' d'aria buona aveva appena detto che si vide portare un bel cappellino un ventaglio e un parasole dunque ho sempre qualcuno vicino che m'ascolta disse stellina lasciate che vi veda una volta ma tutto era inutile nessuno si faceva vedere in quel momento stellina si ricordò dell'anello che le aveva dato la zia e che non aveva mai pensato d'usare perché non le mancava mai niente andò a prenderlo dal cassetto del comò dove l'aveva messo e quando l'ebbe in mano disse comando di vedere chi è che è con me e tutt'un tratto al suo fianco comparve una bella damigella stellina fece un salto d'allegria finalmente avrò qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere grazie grazie disse la bella damigella mi hai reso visibile finalmente dopo tanto tempo che per un incantesimo non potevo né farmi vedere né parlare divennero le migliori amiche del mondo e decisero di cercare insieme di scoprire il mistero di quel luogo uscirono e presero per una cavedagna cammina cammina la cavedagna non finiva mai finalmente arrivarono in un posto dove la cavedagna passava tra due colonne su una colonna c'era scritto domanda e sull'altra e saprai stellina si rivolse alla colonna con su scritto domanda e le disse voglio sapere dove sono la colonna con su scritto e saprai rispose sei in un luogo che starai bene ma ma cosa domandò stellina ma cosa lo domandò una colonna lo domandò all'altra ma non ci fu più verso di avere risposta alle due amiche quel ma sembrava proprio un brutto segno e continuarono la loro strada sovra pensiero poco più in là finiva il giardino con una cancellata che lo circondava tutto intorno e oltre la cancellata sedeva per terra un bel cavaliere appena le vide il cavaliere si levò in piedi e disse com'è che siete là dentro state attente siete in un gran pericolo siete in mano al re degli animali che ha qui il suo palazzo pieno di ricchezze e vi porta tutta la gente che riesce a prendere a uno a uno se li mangia stellina a sentire questa nuova restò più morta che viva e come possiamo fare per scappare chiese al cavaliere la porterò via io e gli disse stellina io sono il figlio del re d'india e sono giunto qua girando il mondo appena l'ho vista mi sono innamorato e la porterò da mio padre che la riceverà come merita insieme alla sua damigella sì accetto verrò con lei disse stellina ma se il palazzo è pieno di ricchezze disse la damigella è un peccato lasciarle lì adesso che il re degli animali è fuori andiamo a prenderle e domattina saremo di nuovo qui e fuggiremo e io come faccio a passare la notte all'aria aperta disse il principe qui non c'è che una capanna ci penso io disse stellina tiro fuori l'anello dal borsellino lo strinsa in mano e disse comando che qui venga subito una palazzina con servitori carrozze e tutto quel che ci vuole per mangiare e per dormire e in mezzo al prato sorse una palazzina che era una meraviglia il principe salutò le ragazze e vi entrò stellina e la damigella tornarono al palazzo e presero a girarlo da cima a fondo scesero nella cantina che era piena di casse e di bauli che non finivano più cos'è questa roba disse stellina pare un magazzino non una cantina vediamo cosa c'è in queste casse cominciarono ad alzare i coperchi una era piena d'argenteria un'altra di gioielli un'altra di quattrini stellina strinse in mano l'anello e disse comando che tutta questa roba sia subito trasportata alla palazzina del figlio del red india detto fatto la cantina si vuotò continuando a girare stellina e la damigella trovarono una scaletta segreta salirono e si trovarono nel buio e una voce diceva povero me povero me stellina si sentì tremare le gambe ma poi pensò che aveva l'anello e andò avanti erano in una gran stanza e su un tavolo erano teste d'uomini e di donne gambe braccia e altre ce n'erano appese ai muri e sulle sedie e le teste dicevano povero me povero me e le due ragazze piene di paura capirono che quello era il quartiere segreto del re degli animali trovarono poi un granaio pieno di frumento frumentone e biada e capirono che era il malgime per tutte le bestie del giardino certamente uomini e donne incantati e trasformati in bestie dal re degli animali che poi se li mangiava uno per uno quella notte stellina malapena riuscì a dormire alla mattina come il solito venne il re degli animali a salutarla e a domandarle se aveva dormito bene stellina gli rispose gentilmente come tutte le mattine facendo finta di niente addio stellina sta contenta disse lui e arrivederci a domani e se ne andò stellina subito salì nel granaio con la damigella e presero a buttar giù dalla finestra frumento frumentone e biada nel sardino perché le bestie s'affollassero lì a mangiare e non le vedessero scappare e non potessero far la spia al re degli animali e mentre le bestie mangiavano stellina e la damigella fecero fagotto quando furono dalle due colonne stellina prese in mano l'anello e disse comando che mi diciate cosa vuol dire quel ma quel ma vuol dire che non potrai scappare se non farai morire il re degli animali disse la colonna ma come posso fare chiese ancora stellina va nella stanza del re degli animali e porta via la noce che tiene sotto il cuscino della poltrona e appena dette queste parole la colonna crollò stellina coraggiosa tornò indietro tolse la noce che trovò nella poltrona e appena ebbe in mano la noce ecco che accorse il re degli animali urlando a stellina tu mai tradito e così dicendo cadde in terra morto appena cadde morto tutte le bestie tornarono al loro vero essere chi era re chi era regina chi principe e tutti ringraziarono stellina e chi voleva regalarle un regno chi sposarla mi dispiace disse lei ho già il mio sposo che m'aspetta e uscirono tutti insieme dal palazzo che andò subito in fiamme quei signori andarono ognuno a casa loro e stellina andò in india col figlio del re e con tutto il tesoro e si sposarono e sempre furono felici